Salve ragazzi, oggi collaudiamo il mio T1 Ranger della E-Wing. Dopo un tentativo di decollo automatico fallito per scarsa spinta, con il decollo classico con le sue piccole ruote è andata a buon fine. Purtroppo oggi si è alzato un vento teso che alla fine mi ha mandato installo due volte. Il modello non ama le basse velocità, non ha riportato danni e tornerà a volare. Questo è tutto per oggi, vi ricordo se vi piacciono i contenuti del canale di non scordarvi ad iscrivervi. Grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.